Buongiorno a tutti, noi siamo i ragazzi di Friday's Proficio Uniso e oggi siamo qui con un da-in perché questo è ciò che accadrà a tutti noi se non riduciamo le emissioni entro 2030. Il cambiamento climatico sarà irreversibile e noi saremo la generazione che ne pagherà le conseguenze. Siamo i vostri figli, i vostri fratelli e siamo tutti destinati a morire se non si paghia ora. Molti paesi hanno già dichiarato emergenza climatica. La Germania si è impegnata a investire 100 miliardi di euro entro il 2030 nelle energie rinnovabili e in Italia ancora non si muove nulla. Pannelli solari, macchine video-elettriche sono inaccessibili a molte a fatto dell'elevato costo e questo non è possibile. Abbiamo tutti il diritto di salvarci e di continuare a vivere. La emergenza climatica è seria e va presa adesso, ma presa adesso come problema serio. Dobbiamo avere delle risposte radicali e che siano funzionali a risolvere le situazioni. Non possiamo più aspettare. Per questo venerdì 27 vi invichiamo tutti ad essere vederti con noi alle 8 del mattina in stazione per far valere la nostra voce, per fare in modo che i governi ci ascoltino e che questo venerdì 27 vi invichiamo tutti ad essere vederti con le nostre voce, per far valere la nostra voce, per far valere la nostra voce.